L'Aquila Rugby Club va a Parma per il quinto turno della pool promozione 1 di Serie A. I neroverdi affronteranno l'Accademia Federale Ivan Francescato, formazione composta dalle giovani promesse del rugby italiane. Il match è fissato per domani, domenica 19 marzo alle ore 14.30 con fischio d'inizio del signor Chimoaga di Roma. Sarà una partita importante per il 15 di Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotiglio che dovranno confermare quanto di buono mostrato nell'ultima sfida interna contro il Prorecco. L'Aquila è seconda nel girone dietro il Medicei e davanti proprio all'Accademia e al Recco, fermi a quota 10 punti. Nel gruppo tutti a disposizione dello staff tecnico eccetto Alessandro Troiani è ancora in convalescenza, ma rientrano dai rispettivi acciacchi anche Mattia Vaschi e Antonio Berducci tra gli avanti. L'appuntamento è dunque per domenica 19 marzo.